Vedi che con Pagine Gialle Online trovi tutto? Guarda, videoproiettore professionale. Provato? Tu ce l'hai? No. Pagine Gialle Online www.paginegialle.it Noi abbiamo sempre bisogno di qualcosa di davvero speciale. Come pane e nutella. Che ci dia gusto e sprint. Perché noi siamo sempre in movimento. E stasera abbiamo una consegna davvero speciale. Che mondo sarebbe senza nutella? Niente ha una brillantezza così preziosa come una perla. Per questo Finish ha creato l'unico detergente per lavastoviglie due in uno che concentra il brillantante in una perla. Finish due in uno Taps pulisce con la forza delle due fasi. E solo al momento giusto la perla si schiude per una brillantezza insuperabile. Sempre. Così unica che ti farà brillare. Finish due in uno Taps. Brillantezza insuperabile. Ehi principessa cosa stai facendo? Quando bacerò questo ranocchio si trasformerà in un principe. Vivremo per sempre felici e contenti. Non preferiresti un po' di Cirios? Ma lui è un principe. Ma queste sono delle golosissime ciambelline di avena integrale. Come puoi resistere? Magari possiamo rimanere solo amici. I Cirios sono davvero irresistibili. Tu non sei un principe, vero? No. Le rughe sono un problema del passato. Se usi tutti i giorni, Clinians Intensa Lifting Rughe. Il suo retinolo complex a rilascio controllato ti dà un'azione antirughe. Efficace per tutto il giorno. Clinians, la mia clinica della bellezza. Quando hai il raffreddore, hai bisogno di un po' di comprensione e di un forte aiuto. Ecco perché i quattro veli di tempo lo rendono così forte. Tempo. Ci puoi sempre contare. Risvegliano ogni mattina i piaceri del palato. Nastrino e mulino bianco. Mangia sano e vivi meglio. San Paolo. Prossimamente. Rai 1. Non sono agenti segreti, né spie venute dal freddo. Io vi cedo perdono.